Rieccoci per Imos Interpares, consueto appuntamento del mercoledì, Gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Avete già capito il tema della serata, siamo con il comandante della Polizia Locale di Padoa Lorenzo Fontolan, ovviamente stiamo parlando di tutto quello che appartiene alla categoria di questo corpo e abbiamo iniziato ovviamente con la materia che non è solo quella perché poi fanno tantissime altre attività e fra poco lo vedremo, però la materia dove il cittadino si arrabbia di più con la polizia che è quella delle multe che vengono date per soste in maniera inadeguata e correttamente, solo che dicevamo che certi posti, non dico di non darle perché sarebbe non corretto, però quantomeno di attendere e di fare da deprimenti un attimino sarebbe più del buonsenso, dico comandante, specialmente nelle zone dove si sa, ci sarà il furbo anche lì, però si sa che c'è una necessità per quanto riguarda il malato, visto che purtroppo allo Iov nell'ospedale, adesso a Sant'Antonio ne hanno fatto un paio di parcheggi, allora magari di qualcosina si risolve, ma davvero nell'ospedale ci sono pochi posti e speriamo che arrivi anche questo ospedale nuovo. Stavo parlando delle multe, prendete bei soldini però con le multe, il Comune prende bei soldini con le multe per soste. Il capitolo che riguarda le sanzioni è un capitolo complessivo, non solo delle soste, ma di tutta l'attività che facciamo. Le attività che sicuramente generano più introiti sono i varchi della zona traffico limitato, piuttosto che le sanzioni fatte con le apparecchiature fisse lungo le tagenziali, con i misuratori di velocità, i velox, ed altre attività di polizia stradale. Mi tolga una curiosità, i vigili danno le multe ai ciclisti? Le multe ai ciclisti? Vedo pochino e vedo, visto che però il ciclista e il pedone è tutelato come giusto sia perché è quello più debole nella strada, però vedo dei ciclisti che non corrono nelle piste ciclabili e già questo è soggetto di multa, perché un ciclista che non corre dove c'è la pista ciclabile dovrebbe prendere 25 euro di multa. Vedo molti ragazzi, specialmente donne o signore o uomini che corrono in centro in bicicletta col telefonino, ne vedo di tutti i colori e non l'ho mai visto, un vigile che ha fermato un ciclista per dare la multa. Allora, le confermo che le sanzioni non sono molte, ma l'attività che noi facciamo di pressing su questi condotti è tantissima. Allora, qui va a innescarsi un ragionamento un po' più complesso. Io le do questo dato proprio sul discorso dell'uso della bicicletta. C'è un problema culturale che un po' alla volta si deve risolvere. Noi nell'ultimo anno, come nei sette anni precedenti nell'ambito dei nostri progetti di educazione stradale, stiamo seguendo proprio un progetto insieme a due associazioni all'interno della Fondazione OIC a Padova, dove è stato creato una specie di percorso destinato ai ragazzini delle elementari, dove si fa una formazione sul campo su come si usa il vero cipede. Perché mi collego a questo aspetto? Perché l'altro giorno in Commissione di Sicurezza un consigliere comunale mi ha detto ma voi perché la gente usi la bici in modo più corretto? Cosa state facendo? Gli ho risposto che stiamo facendo migliaia e migliaia di ore di formazione sul campo con bambini dell'età dai sette ai dieci anni, simulando la circolazione stradale all'interno di un ambito protetto, provvisto di segnaletica, dossi, rotatorie, riproduce la realtà della circolazione stradale. Sì, bisognerebbe fare quello di vent'anni magari. Ecco, il problema qual è? Lo dico per esperienza diretta, io tanti anni fa anch'io ero coinvolto nei progetti di educazione stradale. Il problema dei velocipedi è legato alla mancanza di consapevolezza ed è un aspetto culturale che il velocipede è un veicolo disciplinato dal codice della strada. Qualcuno probabilmente lo considera ancora una sorta di prolungamento degli arti inferiori o una sorta di acceleratore di velocità come fosse un pattino. La bicicletta è un veicolo che è completamente assoggettato al codice della strada. Lei avrà visto anche i nostri ausiliari nonni vigili che fischiano alla persona che passa in bici sull'area pedonale e si beccano un sacco di imprecazioni. È vero, invece se c'è il vigile, l'imprecazione prende però con qualche multa perché dico io vedo molte biciclette sotto i portici, ragazzi che pedalano sotto i portici a Padova perché Padova c'è anche la canzone che è ricca di portici e vedo molte biciclette che... perché vede poi quando un pedone o un ciclista purtroppo mi auguro accada mai o poco, viene investito e ovviamente ha sempre ragione come giusto sia il più debole, in questo caso il ciclista, il pedone. Però se lei, faccio un esempio, prende proprio la rotonda di Via Gattamelata che va verso l'ospedale lì arrivano dalla pista a tutta velocità, attraversano addirittura le strisce senza fermarsi ed è un attimo, e qui non do ragione all'automobilista ma lo tanto per stare attento a investire un ciclista ecco, io dico se il ciclista avesse un attimino un'educazione anche un po' diversa e fosse a volte un po' anche multato come l'automobilista, magari queste cose si accorgerebbero. E le dico una cosa, noi abbiamo iniziato da un po' di tempo a intensificare l'attività di controllo in questo ambito e la difficoltà è proprio il fatto che essendo un aspetto culturale si può trovare il nostro giovane, lo studente, l'italiano, lo straniero e poi si trovano molte persone anziane che lo stesso culturalmente non conducono veloci. Si fermano però, si fermano. No, no, sto parlando adesso delle aree pedonali, il sottoportico e tutto il resto. Ecco, io però le do un dato un po' diverso, perché quello che lei ha appena rappresentato è un po' il sentire comune del pedone che è disturbato e spaventato da queste persone, mi viene in mente qualche ciclista che sfreccia in area pedonale. Mi scusi, nel completamento, mi scusi se ne interrompo comandante, siamo un po' tutti anch'io perché se sono in macchina voglio avere ragione, poi faccio il ciclista o il pedone voglio avere ragione nei confronti della macchina, ma io credo sempre un problema di educazione e come macchina se ho il telefonino mi fermano, mi tolgono i punti, mi danno la multa dico, deve essere fatto che con la bicicletta tutto qui. Io però le do questo dato, adesso è un dato scientifico, siccome tutte queste condotte ha citato anche il telefonino, noi abbiamo fatto quasi 1100 accertamenti nel 2018 sull'uso scorretto del telefonino. Ecco, io le do questo dato però, dal punto di vista della pericolosità nella circolazione per il territorio comunale, non la viabilità esterna, autostradale, eccetera, noi a Padova siamo in una situazione molto positiva, le do due dati per rendersi conto, dal 2000 che rilevavamo quasi 2500 incidenti all'anno, siamo passati a 2180 del 2005, a 1307 del 2018, il che significa che a livello di territorio comunale e per scelte di tipo infrastrutturale e strumentale, ma probabilmente anche per aspetti di natura culturale, di una maggior consapevolezza mediamente nelle persone, gli incidenti stradali si sono ridotti della metà. Quindi vuol dire, sicuramente c'è ancora del lavoro da fare in determinati ambiti e sicuramente i due ambiti su cui bisogna battere il chiodo sono questo uso indiscriminato dello smartphone non solo per l'affonia, anche per la messaggistica e per i social, che lì non c'è tecnologia che sostituisca, non si possono utilizzare, non esiste un bluetooth per utilizzare il whatsapp finché si guida, non si deve utilizzare. E poi l'uso del velocipere che non è ancora concepito come un veicolo. Noi stiamo facendo un investimento, ormai da 25 anni, in questo momento noi raggiungiamo oltre 150 scuole, con classi che vanno dalla scuola dell'infanzia fino al quarto anno dei superiori. È una piccola problematica, è questo l'investimento? No, aumentando con le tasse, dimenticano quello che lei ha insegnato a queste scuole qui di volte. Confermo, confermo, ma ci dimentichiamo anche quello che ci viene insegnato quando facciamo scuola guida per conseguire la patente. Tutto è vero, tutto è vero, però paghi. Cioè vede il comandante, è tutto vero quello che dice, però paghi. Se tu in macchina corri con il telefonino, ti fermi una pattuglia alle spalle, ti dà la multa e ti togli i punti, ed è giusto. Il ciclista non è, e allora corrono. Qual è il problema? Che il ciclista mentre corre con il telefono, con il corare, non è in equilibrio con la bicicletta e crea un disagio all'automobilista. L'automobilista se incidenta con il ciclista è quello che è più penalizzato, magari la responsabilità ce l'ha quella della bicicletta che va a zig e zag perché è il telefono. Ecco, delle volte qualche sanzione nei confronti del ciclista con il telefonino aiuterebbero a un comportamento più corretto. Senza dubbio. Attenzione però, non partiamo dal presupposto che il solo fatto di essere in sella a un velocipede mi dia un vantaggio dal punto di vista della responsabilità. Se il sinistro stradale è avvenuto con una modalità, cioè se il ciclista ha effettuato una manovra che non gli era consentita, non è che perché è stato investito e si è fatto, ha subito maggiori lesioni automaticamente. No, no, certo, io le porto, sono d'accordo. Le responsabilità poi vengono stabilite in base alla dinamica. Guardi, le porterò, io un giorno farò, perché noi abbiamo fatto dei filmati con i periodi nostri telegiornali degli automobilisti, col telefonino ce ne sono, una gatterba, addirittura anche qualcuno che guidava gli autobus della città di Padova. Trasporto pubblico. Esatto, non mi veniva. Però le farò un filmato di una rotonda che è proprio l'emblema, quella dell'ospedale, via Gattamelata che poi porta all'ospedale. Quella rotonda lì quando arrivano le biciclette. Arrivano a 100 all'ora, sto esagerando a 100 all'ora, però arrivano a una città ultrasonica e se c'è quello meno giovane magari si ferma e guarda. Arrivare giovane arriva e la cosa, purtroppo che non è colpa della polizia locale che l'ho detto al sindaco, al vice sindaco quando sono tutti ospiti, che dovrebbero le strisce pedonali essere, almeno quelle più importanti, illuminate un po' di più, perché la sera sono molte buie e oggi con magari anche qualche ragazzo di colore in bicicletta senza la segnaletica, senza il fanale, delle volte proprio non si vede. Lei lo sa che gli attraversamenti ciclopedonali che sono posti a margine delle rotatorie sono attraversamenti che possono essere affrontati in sella a velocipede. Certo. Ecco, tenga presente che la disciplina... Li farò tutti anche dove non c'è la... Certo, però io le sto dicendo, la normativa a livello nazionale, le modifiche codice della strada stanno andando in una direzione che sicuramente andranno a salvaguardare e di in parte privilegiare la circolazione dei velocipedi. Culturalmente anche chi guida un autoveicolo dovrà un po' cominciare ad abituarci anche a questo, che non significa anarchia per il ciclista, però sicuramente il trend, diciamo così, all'interno delle città, il trend di ispirazione europea è quello che si va in quella direzione. Io dico, l'ho detto, il sindaco sia anche il Presidente Ragione, non è venuto a trovarmi, mi piacerebbe, se fossi il sindaco, ho fatto un gioco di parole, chiuderei al traffico la città di Pado, sarebbero commercianti tutti, io farei biciclette dappertutto, immagini lei la mia mentalità come sarebbe... Sa quanto è complesso questo tipo di ragionamento? Certo, mi piacerebbe vedere più questi ciclabili come a Copenhagen, come ad Amsterdam, dove la bici è di uso comune da parte di tutti e la macchina che è in possesso è tassata, è alla grande, vabbè, ma questo è difficile che accada. Senta, un'altra, poi ovviamente vedremo anche le altre attività, un'altra cosa molto importante per quanto riguarda, perché sapendo che lei veniva ci sono arrivate, abbiamo messo sul sito delle richieste. Il tempo dei semafori lo decide la Polizia Urbana? No, un'altra cosa. Le spiego perché. Il tempo dei semafori o di dispositivi che rilevano il passaggio con Rosso? No, mi dicono, se tu vai nel semaforo, per esempio, dell'incrocio di Santo Svaldo, c'è un tempo, poi fanno passare il verde prima, insomma è un po' in confusione. Ecco, questo viene gestito dal servizio mobilità, c'è una centrale semaforica che fa capo al settore urbanistica. Lo stesso mi ha detto quello del Bassanello che hanno contestato appunto e quello è compito ovviamente. Se la cosa viene segnalata a noi, noi andiamo a verificare e poi giriamo la segnalazione all'ufficio mobilità che ha la gestione della centrale semaforica. Ecco, mi hanno detto che queste cose, sapendo che veniva lei, mi hanno detto chiedili perché c'è il semaforo, mi hanno detto che è quale, guarda, quello di via Facciolati con via Cristore, mi hanno detto perché è quello del Bassanello. È stato segnalato anche quello in via Cavallotti, il Bassanello, con via Buzaccarini. Ecco, quello lì, mi hanno detto. Però è stato verificato e ci sono delle motivazioni per quella tempistica. Io le ho accennato quello che mi hanno detto perché non ne sono a conoscenza, quindi le ho fatte le domande. Senti, invece può spiegare quando un automobilista prende una multa se passa il semaforo con il rosso o fino a dove può arrivare. Perché tanti ci chiedono, io se mi fermo dopo la linea e c'è giallo e rosso, prendo la multa o no? Quanto devo essere più là con l'automobile perché si è un errore? La sanzione, il dispositivo effettua l'accertamento quando il veicolo ha già oltrepassato la linea d'arresto con il semaforo già rosso. Quindi, se per esigenze di circolazione con la mia auto io mi trovo bloccato all'interno dell'area di intersezione, quindi oltre la linea di arresto, ma il semaforo era giallo oppure addirittura era ancora verde, poi è scattato il giallo e dopo 3-4 secondi scatta il rosso, la sanzione non viene applicata perché il dispositivo è fatto proprio, perché la sanzione venga applicata quando la condotta si verifica, la condotta all'oltrepassare la linea d'arresto avviene già con il semaforo rosso. Attenzione però, questo non significa che non dobbiamo considerare quelle che sono le come dire, le prescrizioni del codice della strada che dicono che quando io nell'avvicinarmi, nell'approssimarmi all'intersezione vedo che il semaforo è giallo, devo comunque arrestare la marcia. Certo. Ecco, ricordiamoci che il semaforo giallo ha una funzione intermedia per consentire a chi sta occupando ancora l'area di incrocio di sgomberarla. Perfetto. Non significa è giallo, corri come un pazzo per passare comunque, no, il semaforo giallo ci dice già che io mi devo fermare, attendere il rosso e attendere di nuovo il verde. Bene, lo sai che così parlando e chiacchierando è già passata quasi un'ora, non ci siamo nemmeno accorti e abbiamo tante altre cose da chiedere. C'è tra l'operativa, prima il servizio Elisabetta Corazza ha detto che ci sono 252 telecamere, sono tutte ovviamente… 232 in questo momento già operative. Sono tutte sotto controllo, cioè vengono controllate nella sala operativa e ci vogliono molte persone per seguire 230 telecamere. I sistemi di videosoveglianza non vengono utilizzati così, altrimenti per monitorare quelle che saranno 600 telecamere al fine dell'anno ci vorrebbero 30 persone su 24 ore. Funziona in questi termini. Tutte le telecamere sono visionabili nella nostra centrale operativa, in quella della questura e in quella dell'arma dei carabinieri. Comando provinciale. Le telecamere hanno ovviamente un periodo di registrazione, voglio dire, noi registriamo le immagini video, vengono salvate, diciamo così, nel server, quelle degli ultimi giorni. Quali sono le telecamere che vengono visionate in tempo reale? O quando c'è una particolare operazione di polizia fatta dall'arma dei carabinieri, piuttosto che dalla nostra sicurezza urbana o dal personale della questura. Oppure quando c'è una manifestazione, un evento all'ora o quando si deve tenere controllata una zona particolare per motivi. È stato chiarissimo. Voglio dire, come si opera? Si verifica un fatto reato in un tratto oggetto di videosorveglianza. L'organo di polizia estrapola il file video e verifica la fascia oraria in cui la cosa si è verificata. Quindi tutte le telecamere registrano, ma la funzione di videosorveglianza non è come quella che avviene con un circuito di sorveglianza privata. È stato chiarissimo il comandante. Alla notte quanti vigili sono in servizio? Alla notte ci sono due pattuglie di tre unità cada una, più, come parlo di polizia locale, più un operatore in centrale operativa e un agente di guardiania alla sede municipale. Cioè praticamente in termini di... No, nove persone. Nove persone. Quindi ci sono... Otto persone. Tutta la notte sono... Tutta la notte. Noi abbiamo l'H24 tutto l'anno, sempre. Tutto l'anno dunque sono ovviamente... E per l'Ustano hanno un tragitto... Hanno una serie di obiettivi legati sempre alle segnalazioni o alle problematiche ricorrenti e attualmente il servizio notturno si concentra alcune zone del centro storico, Comparto Stazione, Prima Arcella e Comparto Stanga. Ecco, quelli sono più o meno... Assolutamente. Ce ne avrebbe qualcuno in più però, comandante, dico così, ad occhio e croce o no? Allora, non ci siamo solo noi, c'è il personale dell'Arma dei Carabinieri, c'è la personale della Questura, durante il periodo estivo in cui abbiamo avuto quel fenomeno c'è stato un incremento di personale ulteriore un po' da parte di tutti, abbiamo messo anche personale in borghese. Io credo che nella normalità il personale che noi abbiamo in servizio notturno sia adeguato numericamente. Si potrebbero fare delle valutazioni su una suddivisione diversa delle pattuglie, però diciamo che normalmente il servizio notturno lo si riesce a gestire bene ed è un servizio prevalentemente preventivo, dove però abbiamo la competenza quasi assoluta sul rilievo dei cinese stradali. Ecco, dunque c'è anche una reperibilità, immagino se c'è un incendio importante di notte o di sera. Non solo, anche se succede l'arrestato, la guardiania, abbiamo la reperibilità sull'H24 tutti i giorni dell'anno, un gruppo di agenti. Allora adesso andiamo in pubblicità perché è volato il tempo, comandante, poi parleremo delle altre attività che la polizia locale fa nella città di Padova, tra poco rimanete con noi.